Platinette torna sui social dopo l'ictus, gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Alcuni giorni fa, Mauro Corruzzi in arte Platinette era stato vittima di un ictus. L'artista era stato colto da un'improvvisa ischemia cerebrale lo scorso 14 marzo. Prontamente soccorso, era stato ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, dove tuttora si trova ricoverato. Negli scorsi giorni, non erano state diffuse notizie in merito al suo stato di salute ma ecco che nelle ultime ore qualcosa si è mosso. È stato infatti lo stesso conduttore radiofonico a voler testimoniare il suo stato di salute. Platinette si è infatti mostrato per la prima volta da quando ha avuto l'ictus. Pubblicando una fotografia su Instagram dalla struttura sanitaria in cui lo si vede al fianco di un'amica. Nello scatto si può notare Corruzzi sorridere e accennare un bacio. Ricordiamo che Mauro è ospite fisso Italia Si, trasmissione condotta da Marco Liorni in onda ogni sabato pomeriggio su Rai 1. Ebbene, lo scorso sabato la sua amica e sostituta Barbara Alberti aveva tranquillizzato tutti i suoi fan, i medici sono molto soddisfatti. Aveva detto. E Liorni aveva aggiunto che non si trovasse più in pericolo ma che dovesse ora iniziare il percorso di riabilitazione. Grazie. 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 Grazie a tutti.